Prima domanda, allora in che modo oggi le passioni trattate creano un legame tra brand e persone, tra editori e brand? Il nostro ospite, a te la prima, vai! Le passioni chiaramente sono una cosa che congiunge facilmente le persone, che congiunge facilmente le persone ad altre persone, ai brand, non sono facili da far scaturire, quindi è una parola bellissima quanto difficile, quindi cosa porta si sa già, come farlo forse è più difficile. La passione è un misto di resilienza, quella di tutta questa platea oggi, che sicuramente è molto interessata al brand entertainment, che ha accettato di stare qui e in qualche modo credo che, insomma, io sono una grandissima appassionata di sport e penso che Barlame e Sabattini ci insegnino, e anche Caputti ha detto una cosa, la passione per lo sport è quello che poi in realtà giorno per giorno ti fa crescere, ti fa stare, ti fa soffrire e ti fa raggiungere anche poi un obiettivo, quindi questo legame con la quotidianità penso che sia un bel richiamo alla vita. Andrea, Laura, Andrea, content is king è ancora così? Cosa conta di più per essere distintivi? Content is king è quello che abbiamo visto fino adesso, alla fine è un ritorno al contenuto perché il contenuto ci parla, il contenuto crea storie, il contenuto ci arricchisce, il contenuto è quello che poi fa venire fuori le nostre passioni con cui ci esprimiamo, è il linguaggio, quindi content is king sicuramente, è chiaramente un contenuto completamente diverso che in passato perché è un contenuto sempre più basato sulle persone e direi forse un contenuto più per le persone perché prima il contenuto, e anche questo secondo me gli editori devono fare un mea culpa, cioè di essersi sempre messi su dei piedistalli che non esistevano pensando, e forse anche i brand lo fanno, che il brand sia più importante della persona dimenticandosi che tutto quello che si fa alla fine si fa per le persone. Content is king, sì sicuramente, insomma lo recitiamo oramai da anni, credo che la verità è che io mi auguro forse che nei prossimi anni diciamo diventi anche più reale di quello che è, cioè nel senso che credo appunto che questo ritorno un po' alla realtà, ne abbiamo parlato anche un po' con Andrea, senza inseguire il dato, senza inseguire per forza il target, ma anche in una concretezza potrebbe essere diciamo un'evoluzione e anche in una concretezza che porta valore alle comunità, che porta valore alle istituzioni, insomma sono in un trend un po', forse la mia adesione alle scuole civiche grazie ad OBE mi porta un po' in questo, però credo veramente che ci sia una grande opportunità di una piccola rivoluzione, come ci diceva prima Gabriella, che riguarda tutti noi. Andrea e poi Laura, oggi chi vince la battaglia dell'attenzione e come? Chi vince la battaglia dell'attenzione? Sicuramente c'è un lato che è tecnico, a seconda del mezzo devi comunicare con quel mezzo, sei, quattro secondi, all'inizio noi sbagliavamo a fare dei video, perché con l'approccio televisivo, la televisione e il film ti fa crescere nel tempo, qui è l'inverso, qui devi dare tutto in quattro secondi, poi quelli che hai conquistato in quei quattro secondi li devi far rimanere per il resto del tempo, ma questo è tecnicality, poi chi vince è chi arriva alle persone, e qui ci sono, se vuoi, delle tecnicality, ma che non sono tanto tecnicality, che è quello della vera autenticità, è stato detto mille volte, però io ci credo veramente tanto, ma anche quello di togliere i filtri, e questo per i brand, ma anche per gli editori è molto difficile, ci viene chiesto di farlo, poi ci viene chiesto di rimetterli spesso, quindi il togliere il fritto, andare più direttamente alle persone, e anche chiedersi un po' di più, ascoltandoli, cosa veramente interessa, e non pensare di dargli quello che gli interessa, come se bisognesse insegnare alle persone delle cose. Sì, credo che, diciamo, vincerà la vince, o forse la battaglia dell'attenzione, che in qualche modo riesce a creare una, come dire, un'orchestrazione, ecco, io non credo che il singolo progetto, la singola attivazione, la singola idea, in qualche modo costruiscano rilevanza, io credo che i brand che, in qualche modo, ci stanno segnando la strada, sono brand che, anche in maniera magari frammentata, anche un po' discontinua, però hanno un'idea molto chiara di dove vogliono andare, e mettono a terra tante cose assieme, che però hanno, in qualche modo, sempre la stessa cifra. Essere consistenti, secondo me, è veramente importante, ed è quello che forse, è quello che si fa meno di tutti, in questo momento, nell'influencer marketing, quindi siamo all'estremo dell'inconsistenza, quando forse è quella che più ci vorrebbe. Riparto da Laura, e poi Andrea, il tema generazionale, ha ancora senso? Cioè, come sono cambiate le valutazioni sui cluster generazionali? avendo una figlia di 14 anni che mi dice che non capisco niente, che non sento, e che non so, credo che sì, cioè, come diceva qualcuno prima, siamo analogici, ancora un po', poi tutti noi abbiamo fatto il salto nel digitale, però, penso che loro vivano, o stiano in qualche modo, gli abbiamo, cioè vivano realtà ed esperienze un po' diverse dalle nostre, proprio dal punto di vista di questa virtualità, per loro il mondo è Instagram, la relazione con gli altri passa da WhatsApp, e quindi in qualche modo sono diversi da noi. Cioè, è chiaro che, speriamo che anche loro trovino poi un loro senso, perché in questa, così, discontinuità, in qualche modo, qualche rischio, così, ma non perché voglio fare quella il rischio, abbiamo detto non uso la parola rischio, però, insomma, da qualche parte, dico, chissà come saranno, c'è un precedente che poi sveleremo, Andrea. Secondo me, sicuramente, le generazioni sono diverse, le passioni sono le stesse, io e mio figlio, ti fiamo in Ferrari, siamo andati a vederla perdere contro la Red Bull, che fa grandi passioni, ma poi ci bastona come ferraristi, però, il modo di interpretarle sono completamente diversi, i mezzi sono diversi, questo basta vedere le ricerche, quindi è chiaro che, con 15 anni, lo trovi sui social, e meno in televisione, e viceversa, i linguaggi però, sono molto diversi, quindi io credo che, se anche la passione è comune, la ricerca del linguaggio, sia in questo momento una delle cose più difficili, anche perché il linguaggio è in continua evoluzione, perché non è solo che segue la generazione, ma segue anche il mezzo, basta vedere TikTok, che con i video brevi l'ha rivoluzionato nuovamente, e ha rivoluzionato tutti i social, ci possiamo dire, a tre anni di distanza, cioè i social sono diventati da un mezzo di stare insieme a un palinsesto televisivo personalizzato, e quindi seguire il linguaggio per seguire le generazioni è una delle grandi sfide, in questo devo dire che il creator è un traduttore del linguaggio, secondo me molto interessante da utilizzare. Condivido però che la passione è un'ipotesi di lavoro interessante intergenerazionale, cioè secondo me questo tema della passione è veramente un'ipotesi di lavoro per tutti noi, molto interessante. Intelligenza artificiale generativa, chat GPT, entra nel vostro lavoro, sì, come, Laura e poi Andrea. Io la uso, nel senso che credo che in alcuni casi, percato che arriva al 2021, chat GPT, e quindi non ti dice che la guerra in Ucraina è in corso, però in qualche modo è interessante, l'abbiamo usata anche nel fare questo summit, c'era qualcuno con me che abbiamo detto vabbè proviamo a mettere dentro, cioè credo che in qualche modo ti aiuti a fare brainstorming con te stesso e quindi questo lo trovo interessante, la trovo una modalità quasi autoriflessiva, dire che in qualche modo andrà a radicalmente cambiare il modo di lavorare nostro, di chi fa questo lavoro, no, anche perché è chiaro che chat GPT c'è tutto un mondo che è quello delle emozioni, delle sensazioni, della presa di contatto con la realtà che chiaramente io ho uno dei miei che gli scrive il romano, però e sembra che funzioni meglio se gli scrivi in romano. Andrea. Chat GPT lo usiamo, aiuta a confrontarsi ad arricchire i contenuti, a produrre, se vogliamo di più, e questo è anche un rischio ulteriore della rete, di questo incremento ulteriore di una produzione di basso livello, è un ottimo strumento di logica, perché è un'intelligenza artificiale che si basa sulla logica, l'emozione rimane umana, ma alla fine il contenuto fa parte della gamma delle emozioni, il motivo per cui la grande serie tv o il grande film o il grande libro possono anche non essere stati neanche capiti da chi li produceva e poi aver avuto un grandissimo successo, persino l'uomo non capisce l'uomo per quanto è complesso il mondo delle emozioni, quindi io credo che aiuterà nel lavorare sempre di più diventando uno strumento sempre più potente, quindi io non credo nel O-O, io credo nel E-E nelle cose, nel mettere insieme l'equilibrio fra logica e emozione, fra strumenti tecnologici e il contributo umano, non c'è O-O. Influencer economy, il prossimo creator sarà un avatar o è già così? Questa risponde Andrea che è un super esperto di questo. Ce ne sono già, è anche divertente perché se dietro l'avatar alla fine ci sono uomini che animano l'avatar e quindi è un multiuomo l'avatar, è un multisoggetto e come allora può diventare un mondo divertente. Io credo che però la cosa vera dei creator è proprio la bellezza che siano persone, cioè quello che ci trasmette il creator è la persona che parla alle persone. Se ci rimettiamo in mezzo un finto, sì, può a volte avere un senso. La cosa bella che sta accadendo è che magari un avatar potrebbe dare voce a persone che oggi voce non hanno, quindi quello sicuramente come è accaduto in questi ultimi mesi nel campo delle neuroscienze, quindi persone che attraverso avatar riescono ad esprimersi. Ultime tre domande e poi c'è la tagline. E poi c'è l'aperitivo. E poi c'è l'aperitivo, è certo. Però tu lo dici così per imbonirti il pubblico. Certo, sto cercando di imbonire tutti. Qual è il valore di una storia e qual è il valore di un dato? Andrea. Ma qua viene facile, mi viene facile quando viene che c'è il valore di una storia. Qual è il valore di Gerusalemme? chiedono ad Aradine. E lui risponde quando si gira nel film di Rio di Scorso niente, nessuno, e poi dice tutto. E quindi il valore di una storia è niente perché una storia è una cosa che può passare, non lasciare niente e finire nel calderone del volume di fondo delle conversazioni da cui siamo. Oppure se la storia è una storia che arriva e allora è tutto. Quindi qual è il valore di una storia? Niente o tutto. Laura. Un dato è un 1-0 1-0 1-0 quindi è diciamo matematico è come dire sequenziale. Ecco, le scorie sono narrazioni, sono come il montaggio, non è un montaggio sequenziale ma è un montaggio come dire circolare. Noi crediamo nelle storie mi vorrebbe da dire più che nei dati. E allora se credete nelle storie contano più l'autenticità, la coerenza, l'effetto wow o altro ancora? Laura e poi Andrea. Tutto questo assieme forse mi verrebbe da dire nel senso che è chiaro che se faccio la cosa più autentica del mondo ma nessuno la guarda vittima tanta documentaristica magari interessantissima ma senza nessuna pill. Dobbiamo essere bravi è il nostro lavoro qui vedo Laura Carafoli Laura quanto ci metti di effetto wow però di coerenza e quanto di rilevanza. credo che fare il nostro lavoro che non è salvare vite umane però insomma si porti dietro grandi capacità di mettere insieme le cose di avere una visione di come dire elaborare un pensiero e anche poi di realizzarlo di immaginarselo e poi anche di farlo. Ci vuole equilibrio in questo mix è chiaro che l'effetto wow un po' ha distorto per un po' il mercato perché è chiaro che l'effetto wow crea la metrica importante la metrica importante piace piace a tutti noi piace ai brand piace all'editore la metrica serve perché vuol dire che qualcuno ha interagito con un contenuto ma da sempre sappiamo ce l'hanno detto prima le tre S dell'editoria è facile generare metriche è più difficile continuare a generare metriche cioè continuare a essere seguiti e continuare a ricevere dei like e delle conversazioni quindi ci vuole un equilibrio importante secondo me Ultima domanda quale sarà il futuro del brand entertainment? La continuità il fatto che se ci crediamo in televisione dobbiamo fare la prima la seconda la terza la quarta serie la corrida credo che sia arrivata Marco dov'è? alla quindicesima edizione e quindi e credo che bisogna dare modo come lo facciamo nella parte editoriale più tradizionale dare modo ai progetti di crescere e di potersi sviluppare nel tempo Io credo che sarà l'area dell'advertising che si svilupperà di più nei prossimi anni e lunghi anni credo che non debba succedere quello che è successo all'inizio del sondaggio adesso si vede proprio che è un'edonna la comunicazione è la ricerca di qualcosa di diverso dell'effetto wow dell'aggiunta secondo me deve essere esattamente l'incontrario deve essere la continuità del racconto di comunicazione anche con questo strumento di comunicazione e anche come investimenti io credo è inutile fare post survey di cosa mi ha portato un investimento quando poi uno ha speso qualche decina di migliaia di euro in investimento cosa vuoi che ti ha portato un investimento di qualche decina di migliaia di euro niente perché per muovere i consumi ci vogliono centinaia di migliaia o milioni lo sanno tutti quando uno va a fare gli spot divisivi copertura e frequenza e ci vuole una certa copertura e frequenza per muovere quindi è chiaro che deve essere integrato in una strategia di comunicazione ma io credo che ci si arriverà perché perché lo chiedono le persone perché alla fine lo spot rimane fortissimo ma non basta più allora chiedo alla regia di mostrarci la nuvola di parole che avete realizzato lungo tutto questo pomeriggio scegliete una parola pescatene una e in 30 secondi che sono i secondi che ci restano inizi tu Laura ne vediamo sì devo dire che forse la parola riprendo Barbara l'ascolto l'ascolto credo che dobbiamo allargare un po' aprire un po' le orecchie farle diventare come quelle di Dumbo proprio un po' da elefante e volare se ne hai bisogno esatto e poi volare Andrea fiducia nelle persone cioè dobbiamo credere di più nelle persone believe in people alla fine credere nelle persone vuol dire ascoltarle vuol dire rispettarle vuol dire dargli qualcosa e allora se si ha fiducia nelle persone si può ricevere molto indietro Andrea Sant'Agata Laura Corbetta grazie grazie